Musica Ciao a tutti ragazzi, sono NdD e bentornati sul mio canale con il bellissimo e stupendissimo Sono un po' dislessico stamattina Sono appena svegliato, ho tipo la bocca un po' impastata, però non è un problema Tanto riesco a registrare lo stesso anche se... Parlo un po' così, però sti cazzi Allora, sta facendo una lezione sulla sicurezza, meno male, ma meno male proprio Allora, sono riuscito a sbloccare la sicurezza, sì la sicurezza, buonasera, buonasera Ok, sono riuscito ad attivare i due corsi, basta modificare il regime Mettere tempo libero, lavoro tempo libero, da una parte e dall'altra Così ne fanno tanto e si sbrigano E riusciamo a fargli fare... Questo che cazzo c'ha sto ferito qua? Perché non lo porti a... Isolamento? No No, 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 no Vabbè Imposta il livello di accettazione dei prigionieri a 10 al giorno Ok, quindi dovrei abbassare, perché in teoria dovrei abbassare, giusto? Detenuti, personale, arrivi, eccolo qui No 10 al giorno devono essere, giusto? Bene, bam, 10 al giorno L'abbiamo abbassato a 10 al giorno Ok, adesso ci sta chiamando il dottore qui Nonostante la sospensione delle visite Ho cominciato con... Una famiglia di Morgan Madonna, sto proprio... Un po' impastato, sto impastato, raga C'è qualcosa che non quaglia Salve, sono Harry Morgan Ma questa è la moglie? Harry Morgan Dietro la linea Mi spiace, signore, sono qui per vedere Harry Morgan Harry Morgan è il mio marito Non lo ripeto un'altra volta Dietro la linea, subito Madonna, quanto sei cattivo, zio Sì, signore, mi scusi, signore Io gli rispondo, senti, ho fatto la piante D'accordo, vengo avanti Non ho tutto il giorno No, non ce posso credere Questo è da licenzia Io adesso ti prendo e ti licenzio No, no, ti licenzio? E questa è la sua bambina Oh, ma certo, lui... L'ha bevuta? Ah? E lui se l'ha bevuta? Ah? Ah? Carrie? Oh? Ah, è una poliziotta questa Temo ci stiamo nerone Morgan non può essere... Può ricevere visite Sai scherzare, vero? Che cosa? Del liquore nella città non posso farci nulla Ci ho messo due ore per arrivare qui Madonna, quanto sei cattiva Proprio cattiva No, non ho nessun messaggio È giusto No, non ho nessun messo due ore per arrivare qui No, non ho nessun messaggio Aspettate Non potete farmi questo Lasciatemi parlare con mia moglie L'ora di bastardi Nooo Bene Allora ragazzi, io direi che... Ah, che delusione È così difficile di trovare un modo per aiutare davvero i detenuti Dobbiamo insegnare loro a aiutarsi da soli Dobbiamo assolutamente occuparci della gestione delle visite I familiari detenuti si stanno accalcando di fuori dalla porta della struttura Costituiamo una struttura dedicata alle visite nonostante quel che è accaduto a Morgan Sono convinto che... No, no, no Tatti è una buona idea E poi anche altri detenuti hanno una famiglia Ho condotto alcune ricerche e ho scoperto che molti di questi detenuti sanno a malapena leggere e far di conto Ah beh Dobbiamo porre rimedio a questa situazione Costruisci una nuova aula, assumi ed insegnanti disposti a istruire i detenuti senza un minimo di equazione Queste persone non hanno alcuna possibilità di tornare a... Sta Inoltre dobbiamo tenere sotto controllo il flusso dei detenuti e continuare a espandere la nostra struttura per... Va bene, ho capito, ho capito Ho capito, ho capito Produci dentro di arche 10 detenuti in sicurezza 5 detenuti, ok Ok Che devo... Che era? No, c'era microgestione Legge E no, no, educazione, ecco qui Dobbiamo fare l'educazione Allora Che dovevamo fare? Che dovevamo fare? Non mi ricordo più Ah, qui dobbiamo fare un bel po' di cose Vedi? Un bel po' Organizza un corso di guida spirituale Costruisci una cappella Tieni un corso educativo di... Madonna, tutta sta roba devo fare Andava, ciutate qua Allora, costruiamo... Costruisce una struttura dedicata alle visite Allora, qui c'è una struttura dedicata alle visite Dobbiamo farne un'altra a quanto sto capendo L'altra la facciamo qua La facciamo qua senza alcun problema proprio E facciamo in modo che la stanza sia un po' di più qui Così almeno evitiamo... Ok Facciamola così, sì Possiamo farla così Allora Facciamo una stanza grande qui Una stanza grande qua Ok, sì, così Più o meno 16x16 lo facciamo Facciamo una stanza 16x16 Poi mettiamo una porta della prigione grande qui Dove entreranno i nostri amichetti Poi facciamo in modo che Un'altra stanza Cioè, più che stanza è un corridoio Passi da qui E vada qui Quindi mi serve un corridoio Sia d'entrata che d'uscita Poi dividerò il corridoio E lo farò in modo Allora, mi serve un corridoio così Un corridoio così più o meno Sì Un corridoio... Che cazzo? Che è tutta sta gente? Ah, se stanno a pista De botte Bene Allora Emergence Chiamiamo Polizia Venenziaria Oh, oh, oh No Sono riuscito a buttare giù il coso No, non ci posso credere Sono scappati Se ne sono andati Ma sul serio? No, ma sul serio Stati se ne sono andati Io così perdo Sordi però Così perdo Sordi Mannaggia la vacca Magliala Perdo un botto Di soldi Vabbè un sacco Di soldi Perdo io Ok Ripara sta barra Maledetta Mi riportate I detenuti in cella Per fore Allora Qui hanno fatto la cosa Ok Poi Vabbè Ormai è andata Ormai ho perso gente Sti cazzi Poi qui mi serve Una cosa del genere Poi Andiamo a vedere Corrente Corrente elettrica Corrente elettrica Mi serve Della corrente elettrica Uh posso prenderla Direttamente da qua E portarla giù Per così Perfetto Corrente elettrica Poi Vi Togliete dai Coglioni Me li portate Tutti via Per favore Chiudi in cella 12 ore Punisci Chiudi in cella 12 ore Punisci Chiudi in cella 12 ore Poi Questo Punisci Chiudi in cella Per 12 ore Anche Anche tu Via E anche tu Via Ok Questi se ne mostro pure Andando a fanno Mazze Sorda Ok Adesso mi servono Però Mi servono Molti più poliziotti Di quello che pensavo Mi servono Molti più poliziotti Di quello che pensavo Ragazzi Molti ma molti di più Perché qua Li vedo Affannati Affannatissimi Proprio Allora Quanti ce ne ho? 30 Non vanno bene 50 Ne voglio Ok Adesso andate a papi A tutti i tenenuti E portateli tutti dentro Va Prendete tutti I fottuti I tenenuti E portateli Tutti dentro Ok Mentre loro li portano dentro Queste stanno a costruire Dai Muovetevi Ma Una cia Porta aperta Porta nuova Chiusa Chiara Poi Qui mi serve Una porta Torniamo a fare Quello che facevo Mi serve Una porta Mettiamo grande Eventualmente Lo mettiamo qui Questi li leviamo Qui dobbiamo togliere questi E metterci il muro Sì Allora Liberare l'interno Demolisci i pareti Questa qua Dobbiamo demolirla tutta Vai Demolisci Poi qui c'è la porta Ok Perché qua poi facciamo L'entrata Allora Da qui Ora che hanno fatto sta cosa Possiamo dividere finalmente Materiali Muro Le mattoni Posso Dividere così No Dividere così Poi Qui ci faccio un muro Allora aspetta Fammi un po' vedere com'è che ho fatto Questo qua Ah ok C'è l'entrata da una parte E l'entrata è uscita da una parte Ok Quindi Qui ci faccio un muro Ok Così Faccio un muro Dove Qui c'è l'entrata dei tenuti E qui c'è l'entrata E l'uscita Dei Delle persone Qua ci faccio un muro Paro Così Qua ci faccio un muro Paro così Ottima cosa Poi mettiamo Una porta qua Una porta qui Sì Perfetto Una porta Ah già ce l'hanno messo Ah ma me l'ha messa nel posto sbagliato Smantella 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 Me l'ha messa nel posto sbagliato Non deve andare lì la porta Ma deve andare in un'altra parte Però vabbè non fa niente Non ti preoccupare Allora qui Mi ci devi mettere Questi affari qua Oh leo Ok ok Allora il muro mi sa che non serviva So un coglione Perché il muro non serviva Il muro non serviva So un coglione Via Il muro non serviva Stanze Allora Magazzino Mensa Dormitorio Cella Cucina Spazio Officina Visite Questa è la stanza delle visite Ok Questa dovrebbe essere la stanza delle visite Ecco Ma adesso mi serve il pavimento Quale cazzo è il pavimento Pavimento Metteci Piastrelle Ecco Dai Su Madonna Resiguiti Non soddisfatti Io voglio metterci il pavimento Come faccio a metterci il pavimento qua? Come faccio a metter il pavimento Scusa Mi levi quel coso? Grazie Non mi mette il pavimento? Come faccio a mettergli il pavimento? Come faccio a mettergli il pavimento? Dai Ma sul serio? Allora La porta La mettiamo qua E un'altra porta La mettiamo qua E ok Poi Ok Qua è tutto chiuso Qua possiamo mettere la porta dei detenuti Poi mi servono oggetti Banco dei visitatori Eccolo qui Mi serve No 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 Girato Ok Detenuto E visitatore Ok Sì Mettiamolo così Ma adesso Risolvo sta questione Basta mettere Basta levare il muro da qui E mettere il muro qua Ok 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 Levo la parete E mi metti Il muro qua Perfetto Ok Adesso dovrebbe essere posto Non sono riuscito a mettere la cosa Ma non mi interessa Sinceramente Non mi interessa Ah qui non passa la corrente Ma come mai sta cosa Ma per chi Ma per chi Ma per chi Allora qua Vabbè E faremo così Che ve devo dire Ogni tot Mentre moncoso Ok Allora ragazzi Io intanto finisco qua Che questi stanno a finire Mo deve distruggere il muro Perfetto E poi me deve fare a fianco il muro Mi devi fare il muro a fianco E muovi quelle chiappe E mi devi fare un muro a fianco Ah però mi servono luci Mi servono luci Perché le luci C-c-c-c-c-c-c Possono essere Utili Qua Ok Servono luci Eh scusate eh Ok Qui stanno mettendo Perfetto Adesso mi serve Oggetto Una porta della prigione Mi serve qui Per fare entrare i prigionieri Che altrimenti È tutto un cacchio Eh scusate eh Qua stanno a mettere la porta Stanno a mettere la porta Non si sa se stanno a mettere la porta Mi apri qua per favore Apri Non ho chiuso la chiave Ah la porta sta andando Bene La porta sta andando Ci stanno andando Questo sta a mettere la porta qui Perfetto Siete stati bravissimi Siete stati bravissimi Eh eh Qua è tutto un pezzo Non è diviso Regà Cioè non Non me fa Non me fa Il momento di visite Eh vedete Non me lo fa fa qua Non me lo fa fa Non me lo fa fa Non me lo fa Mettere Non me lo fa Mettere Non mi fa Unire Non mi ha fatto Non mi fa unire Non mi fa unire Non mi fa proprio unire Eh sta cosa Non va per niente bene Regà Non va per niente bene Devo ricostruire tutto Devo rifà tutto Devo rifà tutto Mmm Bella cosa No no Bella Bella Devo apri un po' Devo rifare tutto E non è bella come cosa Che devo rifà tutto Non è bella Niente bella Perché se no Non mi riconosce Quale visite A meno che Non tolgo la stanza Non tolgo la stanza Come diavolo la tolgo Eccola qua Così Dovrei togliere la stanza così E vedere che succede Ok Luce c'è Perfetto Eh è a posto Dovrebbe essere a posto così Ok Allora Adesso dobbiamo mettere Una scrivania No Oggetti Fa un po' vedere qui com'è E' stata organizzata la cosa Scrivania Porta Porta Ok E' un'altra scrivania qua Ok Allora Facciamo così Mettiamo una scrivania qua Una scrivania qua Così No Sbagliato No Ok Così Una scrivania Qua Così Che così Mi porta poi La sedia La sedia La schivania Poi Mi metti Una porta qua Ragazzi Sto facendo un video troppo lungo Una porta Della prigione qui Perché così Almeno Loro escono da qua Entrano qua E poi escono da là Adesso mettiamo Le fence Le Muro Perimetrale Recinto Che va da qui A qui Eccolo là Muro così Dove c'è un pavimento In strada Che loro Non si possono Sbagliare Bene Poi Questa me la lasci Non chiusa A chiave La scrivania Me la lasci lì Poi mi serve Un'altra scrivania Qui Un'altra scrivania Qui Con La tastiera Dall'altra parte Perfetto Schiena qui Una sedia Perfetto Qua stanno costruendo Perfetto Ok Adesso Che altro Mi serviva Basta Tutto qua Tutto qua Tutto qua Eh si Tutto quello Che mi serviva Bene ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video In un prossimo video Prossimo video Non so come hanno fatto A fare questo qui Hanno fatto strada No Si hanno fatto strada Vabbè io lascio così Me ne fotte Me ne fotte Proprio Non me ne fotte Proprio Ok 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 la sala visite È fatta In teoria Mi serve la scrivania qua E Una guardia qua Una guardia qua Vabbè Poi Ah eccolo Sta arrivando Ok ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Come sempre Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti Noi ci vediamo in un prossimo video